La tua carità Lo scorso 17 maggio, il secondo compleanno del Vescovo qui ad Agrigento, che anni sono stati per lei? Io chiederei alla Chiesa di Agrigento che anni sono stati. Per me anni positivi, di intenso lavoro, ma anche di grande scoperta, scoperta di bella gente, di tanta generosità, di tanta disponibilità. E quando dico gente penso ai sacerdoti e penso ai laici. Due anni in cui mi sono guardato attorno, proprio perché è un territorio che non conoscevo per niente. E da queste scoperte positive credo che un po' alla volta ci possa essere non un rilancio, ma un progettare un cammino che deve portare senza altro dei frutti positivi.